Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio del nostro carissimo Gino Ammazza, Ammazza, Ammazza Tino, Ammazza Tino Come cazzo te lo chiamami? Non mi ricordo neanche come cazzo lo chiamiamo, vabbè, superfluo, signori Tino Ammazza, ecco, ecco, c'era un piccolo dettaglio che mi mancava Signori, benvenuti in questo secondo episodio, io sono Maullo e oggi continuiamo la nostra avventura con il nostro mitico personaggio che si è appena alzato e lunedì mattina sono le 6.35, è un pazzo perché è abituato agli orari del carcere, capite? È abituato agli orari del carcere e a mangiare anche cose strane perché sta mangiando quello che è rimasto di ieri però va bene, è contento, ci sono piatti che fumano, però va bene, va bene, signori Oggi è una giornata importante, perché, signori, perché per Gino, per Tino, chiedo scusa, per Tino inizia una nuova avventura, signori, inizia la vita vera, signori Dopo anni passati in carcere, dopo anni passati a pagare per i suoi errori dovuti alla cattiva vita che vuole lasciarsi il suo passato alle spalle e iniziare una nuova vita, signori inizia una nuova vita con un nuovo lavoro, ricordiamo che lui è un cuoco in carcere ha imparato a cucinare e quindi oggi inizierà a lavorare alle ore 4 dalle 4 fino alle 1 di notte, porca miseria, vabbè, martedì siamo liberi, vero? Martedì siamo liberi, bene così, bene così Allora, zio, c'è qualcosa che non mi torna, ti stai urinando tutto, per dirlo in italiano andiamo a liberare le nostre pesciche, andiamo a liberare le nostre pesciche vai, vai, guarda come cammini male, zio, non è che ci voleva uno scienziato, ma il computer è spento in tutto questo perché la luce la vogliamo noi, beh, quanto guadagniamo noi con questo lavoro? Non si sa, 9 giorni, requisiti di promozione, non so quanto guadagniamo va bene, dettagli, dettagli, dopo di che agi, dobbiamo, no aspetta, fallo finire di stare in bagno perché sennò questo si, 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 ripulisci questo, ripulisci questo, ripulisci questo, ripulisci questo, via, veloce, rapido e indolore, pulisci tutte le cose, dopodiché ma questo, questo che cos'è? Restanti 2, ma questa lasciala, ma l'accesso è andato in bagno, ti vedo un poco, un poco, no, ok, va bene, c'è andato in bagno, signori, c'è andato in bagno, va bene, acceleriamo un attimo le tempistiche così in modo tale che Gino pulisca tutto, bravissimo, nel nostro giro vatti a fare una bella doccia, sono solo le 8 del mattino, bene, 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 che cazzo la facciamo in tutto questo a noi, va bene, allora, eh, io ho saputo la tua amicizia con Sam e la volete piuttosto in gamba, ma che cosa vogliono? Perché tutti sono, va bene, superfluo, va bene, sono le 8 e 20, facciamo una bella doccia, dopodiché andiamo a conoscere il vicinato, signori, ebbene come cazzo la si fa? Conoscere il telefono, fai volontariato, trasferisci, prendi vacanza e viaggia, viaggia, viaggiamo, no, da soli, da soli, dove posso andare, signori, bravo, guarda Gino che è educato, non ci avevo pensato a buttare la spazzatura, ma no, non la devi buttare lì la spazzatura, l'ha buttata a terra, ma, va bene, superfluo, superfluo, andiamo a conoscere il nostro vicinato, signori, andiamo dai Pancreas, che non li conosciamo, sì, andiamo, oh, perfetto, siamo arrivati, andiamo a bussare, bussa la porta, ok, buongiorno, salve, che raggiamo in casa che c'è, questi soldi ce l'hanno, questi soldi ce l'hanno, oh, buongiorno, salve, entra pure, oh, che cosa carina, io mi ho dimenticato a mettere l'audio, chiedo scusa, andiamo a suonare, a Bob Pancreas, che, che cazzo, dove sta andando, non lo so, riusciamo a, presentazione, presentazione amichevole, a G, dove stai andando, Gino, che te frega della spazzatura, Gino, non sei a casa tua, non si chiama Gino, si chiama Tino, va bene, va bene, si chiama, si chiama Tino, oh, ciao caro, grazie per avermi aperto la porta, ehm, manda via, ma siamo a casa sua, ralleghela, va bene, lui dovrebbe iniziare a parlare, perfetto, sono iniziato a parlare, questa è una cosa interessante, dov'è tua moglie? oh, sta giocando a video gioco, dobbiamo conoscere anche la moglie, salve, Elisa Pancreas, presentazione amichevole, lascia stare il marito, andiamo a conoscere questi, ce li hanno i soldi, signori, è interessante questa cosa, salve, benvenuta, benvenuta a casa sua, bene, parlate del più o del meno, che cosa carina, che cosa carina, signori, Tino si ricorda del suo passato in carcere, è a voglia di fare un po' di palestra, perché gli mancano i tempi della palestra, a casa non ce l'abbiamo un attrezzo del genere, quindi nel dubbio si porta avanti, acquistito forma fisica, fai schifo, Tino, a me non è che sei stato in carcere e facevi pesi, fa schifo, cioè non riesci a tirar su un peso, bene, bene così, è tutto sudato già, ma che schifo, ma che schifo, vabbè, quanto mi piace quando ride così, dai zio, fai un altro po' di palestra, dai, 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 ok signori, mi ero un attimo rotto le scatole di stare là a fare palestra, a conoscere Pancreas, andiamo a conoscere questi altri, mi ci fai, mi, mi ci, no, prima devo salire qui, so, bussa alla porta, bussa, non pensare ai polipi, devi bussare alla porta, perché stanno da quel lato, che ti cambia, non è sempre la stessa porta, chi ci abita qui, conosciamo altri vicini, conosciamo altri vicini, signori, buongiorno, salve, entra pure, grazie, grazie, chi siete loro, Giuseppe Mancini, presentazione divertente, ok, e anche con Martina Mancini, presentazione amichevole, salve, buongiorno, sono Tino, Tino ammazza, Tino ammazza, questi hanno una casa piccolina, interessante, però è carina questa casa, salve, che problemi hai zio, hai fame, ok, sopra ci sta nessuno, no, questi vivono da soli in questa grande casa, interessante, interessante, salve, salve, buongiorno, presentazione, presentati, ok, dovdiché andiamo a cucinare qualcosa, perché c'hai un po' di fame, facciamo la macedonia di frutta, sì, formato famiglia, dai, siamo buoni, andiamo a casa delle persone a cucinare, signori, chi è che non va, si autoinvita a casa delle persone e va a cucinare, scusa, l'ABC, l'ABC proprio, signore, l'ABC, siamo dei perfetti sconosciuti, che ci stanno confinati a casa di altre persone e stiamo cucinando, bene, è intrappolato, basta per così, per favore, scusate, questi mi stanno facendo sbroccare, voglio cucinare il pane della morte, solo per me, vaffanculo, non volete che vi cucino e cucino solo per me, allora, dai, Tino, cucino, bravissimo, stavolta ce l'abbiamo fatta, signori, stavolta, questa ha rotto le scatole, però, questa mi sta antipatica, questa mi sta già sul culo, signori, va bene, andiamoci a una casa nostra, torna a casa, zio, devi mangiare qualcosa, zio, apparecchia la tavola, no, devi mangiare, 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 metti l'alimentario, apparecchia, ma che cazzo la stai a dire, fermi tutti, fermi tutti, non possiamo fare tardi il nostro primo giorno di lavoro, cucina, una torta hamburger, sì, fai qualcosa, zio, dai, 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 ah no, no, sta cucina, no, 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 smettila, smettila, mangia di questo, mangia di questo, mangia torta, mangia torta, mangia torta, non ti preoccupare della spazzola lì sul tavolo, tu pensa a mangiare, pensa a mangiare, zio, ci manca solamente la fame, va bene, va bene, ci manca solamente la fame, accelera, 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 mangia, ok, sta a mangiare, signori, quindi la fame l'abbiamo recuperata, dovriché buttiamo via questo e dovremmo essere pronti per il nostro primo giorno di lavoro, forse, forse ce la fa, quanto ci stai a mangiare, zio? Sì, bravo, pulisci il piatto, non nel gabinetto magari, magari nel gabinetto non è il posto migliore dove, 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 va bene, ok, stiamo andando a lavoro, signori, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, l'impresa, l'impresa, l'impresa terribile, ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, il nostro Tino sta andando a lavorare. Ok, signori, il primo giorno è andato, fermo, 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 abbiamo guadagnato 144 simoleon, ok, metti da parte 10.000, abbiamo guadagnato 144 simoleon, ok, abbiamo guadagnato nulla praticamente, abbiamo guadagnato pochissimo, allora, il nostro zio è messo male, allora, perfetto, fermi tutti, siamo in pausa, ok, zio devi andare in bagno, che il bagno mi ha sempre utilizzato, che vai a dormire e non ci pensare più, e sti tranquillo zio, non ci pensare, domani un altro giorno, domani un altro giorno e si vedrà. Ok, signori, buongiorno, buongiorno, sono le 10 del mattino, Tino se l'è presa comoda, Tino se l'è presa comoda, andiamo a cucinare, facciamo l'hamburger, sì, dai, l'hamburger, bello così, ciccioso, ciccioso, anche perché l'incarico del giorno, prima di tornare a lavorare, dobbiamo preparare del cibo, oggi non lavoriamo, oggi non lavoreremo, lavoreremo mercoledì, perfetto, perfetto, allora, signori, oggi ce lo dedichiamo un attimino a livello suo, è raggiunto il livello 2 di abilità di cucina, il nostro Tino ci sta sorprendendo, il nostro Tino ci sta sorprendendo, dai, cucina e mangia, zio, questo non l'ho capita, signori, abbiamo fatto un mega paninozzo lì e sei andato a prendere un pezzo della torta di due giorni fa, sei strano, Tino, Tino sei abbastanza strano, va bene, dai, non facciamo caso a queste particolarità, va bene, va bene, finisci di mangiare, stai recuperando il cibo? Sì, ma non tantissimo, va bene, ma questo non ti piace, prendi un pezzo, questo è più buono, scusami, che cazzo non la mangi quella torta di due giorni? Va bene, mangia quel pezzo, poi ti fai una doccia, poi vai in bagno e poi ci prepariamo a uscire, signori. Ok, signori, per la nostra situazione conosciamo l'invicinato e teniamoci tutti buoni. Ah, ci vengono il dodaro da questa parte, ok, va bene, li conosceremo la prossima volta, voglio andare a conoscere questi, gli alberghini, andiamo, andiamo, andiamo a conoscere gli alberghini, signori. Oh, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, allora, buongiorno, salve, posso bussare? Bussa la porta, ok, ce l'abbiamo fatta, salve, buongiorno, buongiorno, sembra che non ci sia nessuno in casa, scompi, sembra che non nessuno in casa, ma porca miseria, mi stanno lasciando sotto la pioggia, ma come, ma, ma come cazzo la si permettono? Ma dove sta andando? Ordino non bevanda, ma da chi sta andando? Scusatemi, che cazzo non è successo? Questo fa le cose da solo, dove stai andando, zio? È partito da solo, sta, è partito? Ma voglio capire dove sta andando? Ma sta piovendo, zio, dove cazzo la stai andando sotto il diluvio? Guardalo come corre! Moira Faes, adulta, presentazione divertente, dai, conosciamo quest'altra tizia, oh, Tino è stato in carcere, Tino non vede una forma femminile da tanti anni, signori, e quindi che problemi ha questa? Rallegra, parliamo anche con questa, non so chi sia, impara a conoscere, va bene, mentre aspettiamo che tornano quelli da casa, noi, urla contro, manda via, disco di poliva, contatta, ordine del cibro, aiuta a recuperare una cattiva relazione, contratta, no, non mi piacciono queste, dammene altre, ok signori, siamo stati un bel po' a parlare con quella, ma adesso sotto la pioggia siamo tornati, oh, finalmente, questi sono tornati a casa, siamo bagnati fratici, perché c'era una pioggia assurda, e, oh, Daniela Lombardi, salve, salve, buongiorno, gli abbiamo già lasciato un qualcosa lì che non ho capito che cos'è, andiamo a conoscere tutti quanti, buongiorno, salve, ciao, sono il nuovo vicino, mi chiamo Tino, ammazza, dove sta andando, si è seduto così a casa di qualcuno, senza nessun motivo, perfetto, ok, ciao, benvenuti, grazie, sono molto contento di conoscerti, ci siamo già presentati? Oh, ok, l'ha sblocato la presentazione, questa mi sta passando davanti, eh, 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 signorina mia, oh, stiamo parlando del brutto tempo, effettivamente, ci siamo presi una botta d'acqua che non è, non è, non è normale, va bene, che cosa carina, oh, è arrivato anche il marito, presentiamoci una presentazione amichevole, sì, lasciala perdere, va bene, presentiamoci un po' a tutti, signori, siamo dei buoni vicini, siamo dei buoni vicini e siamo contenti di questo, ok, signori, abbiamo conosciuto anche degli altri nuovi vicini, quindi ora siamo tornati a casa perché sono le 10 di sera e direi che è anche ora di tornare a casa, il nostro Tino ha bisogno di mangiare, infatti si è andato a mangiare, dovrebbe anche andare in bagno, quindi dove cazzo la stai andando a mangiare, sul divano, va bene, lui a casa sua e fa quello che vuole, fai la cacca furente, va bene, va bene, faremo la cacca in maniera furente, signori, dopodiché, dopo questa bella cacca furente, signori, il nostro Tino penso che, mentre mangia così in maniera simpatica, è un po' arrabbiata, anzi, è simpatica, è simpatica, sta guardando la televisione spenta, sì, però mangia, mangia mentre guarda la televisione spenta, perfetto, che cosa, che cosa, che cosa normali, però va bene, però va bene, detto questo, signori, vediamo il nostro Tino che fa la cacca in maniera furente, no, l'ha già fatta, troppo furente, va bene, vatti a caricare e io direi che per oggi, signori, ci possiamo fermare qui, il secondo episodio, e là, volevo solo darti il benvenuto nella comunità, eh, accidenti, ma che bel collo che l'hai, ma stati al tuo posto, detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo secondo video, da domani ci saranno delle decambiamenti, signori, eh, però andiamo avanti, andiamo avanti, detto questo, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto, noi ci vediamo sempre qui domani per il terzo episodio del nostro Tino, signori.